Allora oggi giornata dedicata ai mobili? Sì, ormai la Francia era lanciata. E siete andati al mercataccio? No, si è andato quello scemo di mio cugino. È stato lì tre ore, ha spesso il dubbio di quello che credeva e non sa neanche cosa ha comprato. Quindi? Siamo andati allo start-up. Con calma abbiamo arredato tutta la casa con mobili di marca, spendendo 10.000 euro. Tutto compreso e senza interessi. Start-up, mi piace avere tutto, spendendo poco.